ecco il link al mio canale twitch e alla mia pagina instagram per seguire gli aggiornamenti bravo todd andiamo sparalo 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 eccolo qua todd come prima andiamo todd ecco buttamelo giu spara spara oh non sono andato todd todd mi tocca andarlo a prendere perchè c'ha paura è troppo lungo però dovresti sentire il rumore che fa quando cade allora todd buttalo giu spara e quando c'è vo' c'è vo' e scusa esatto e si e come facciamo ad andare sopra sti cacchi ci andiamo un'altra volta no 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 tira i cosoli non addosso a me allontanati non so io com'è tac visto ci pensa Todd a ripulire tutto che ladro un colo hai capito bravo Todd adesso possiamo andare non me lo uccida selvaticamente perché perché ah beh così almeno perché è stanco Todd ah certo tu sei gentleman perché non posso più venire avanti allora la mappa del tesoro se non mi ricordo male stava da questa parte qua si vai in giù era tipo qua vai in giù eccolo qua mamma mia zuccia 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 ecco l'unico problema è quando ci avvicino Todd che devi che me lo sono pigliato zuccia qualcosa te lo pigli direttamente oh yeah visto che puoi passare anche qui gommi luigi esatto buona occhio piglia tutto sì vai ponte tramutati oh perché ero sopra buona la vedo una perla anche se mi sembra un po' strano che le noci di cocco tirino fuori le perle vabbè la veste cacchio di panna buono i topi mamma mia i topi levati Todd sempre in mezzo alle balle ancora ecco e ti butto a mare mo stai quasi non c'è una gemma grossa così e la macchina terza gemma andiamo Todd adesso ti dobbiamo portare a casuccia perché eccola là quarta gemma ladies and gentlemen tre doppio tesoro aia che t'ho fatto chi è oh almeno t'ho fatto del male fisico una volta esatto passassi sempre tu sempre tu e dopo un po' scusa adesso dobbiamo andare tranquillamente al ascensore vieni gommi lui e anche Todd ma questa clip perché è spenta eh non lo so bisogna 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 trovare un modo per accenderla eh ti rete di Todd certo poverino tira di Todd scappiamo Todd scappiamo scappiamo come lui si è tramutato in una persona cattiva vieni vieni qui via che t'ha fatto di male Todd vedi che anche qua c'è una cosa vabbè yee è che lui si diverte certo che si diverte soprattutto quando si mette si infilza nel pavimento no l'abbiamo già fatto l'abbiamo già fatto fammi giucciare quel divano che non l'avrò mai fatto l'altra volta bravo ve l'ho messo bravo bravo ve l'ho messo bai 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 c'è stato c'è stato un piccolo imprevisto ma non c'è di che preoccuparsi assolutamente cattureremo già più presto avrei bisogno solo di un po' più di tempo che c'ha di essere così arrabbiata hai trovato tutti Todd ora mancano solo la principessa Peach e Mario chissà dove li tengono prisionieri comunque ce l'abbiamo quasi fatta Luigi e vai ce l'abbiamo quasi fatta gommi Luigi foglia qui sempre io toglie qui la monetina vedi monetina monetina tiriamo via le foglie qui ma non c'è tempo delle foglie come Luigi perché abbiamo il tredicesimo tastino oh ed il piano numero 13 secondo te che piano è numero 13 no qual è l'incipit del piano non saprei non saprei sarà ombre oscure ombre oscure centro fitness hai visto fatto apposta proprio ho aspettato il momento giusto per arrivare al tredicesimo piano qualcosa più vicino più vicino aia maledetto cio 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 ci saranno tutti bombati qui, steroidi... mamma mia questo è il piano del bell'uomo proprio c'è manca... è del bell'uomo scusate di commi luigi esatto c'è manca falla apposta proprio... va beh continuiamo a buttarne fuori sotto manca falla apposta proprio siamo arrivati proprio in questo punto dove c'è il bell'uomo che... qui non suona? non suona il telefono? e suonera dopo facciamo da qui! no non ti devi spostare altrimenti va giù il coso spaccalo... mamma mia subito gemma! subito ciu! l'uomo delle gemme! guarda c'è un problema come si fa a tornare su adesso? saltiamo tutti e due! uno, due, tre! bravo gommi luigi! dove sei? bravo gommi luigi! vedi che ce l'abbiamo fatta tornare su? adesso basta che non chiariamo tutti e due ancora quel punto... dai spaccalo! come va te? come contro il vetro? come contro il vetro? la tua? ma sti... e mo suona visto? rispondi! il canale 3 diffonde una musica perfetta per la sala cardio! qua tocca a te fare il doppiatore perchè se è roba tua... eh no! io entrerei! vai, entra, entra, entra... sembra il posto dove vai a allenare i tuoi muscoli? i bicipiti? no! no, abbassi! domando io! no! prendi, prendi, prendi! qui, qui, qui... sparo, schiappo... mamma mia, mamma mia, raccogli, raccogli, raccogli! tutto raccoglio! pure il cuoricino, bello da mammatici! ah, volevi scapparmi eh? maledetta! ah, no, ok, no, vabbè andiamo avanti di qua... perchè? perchè? eh no, perchè prima c'è tutto questo lato, credo forse è soltanto una stanza, invece andiamo da un'altra parte... aha, non vedi che tiro? mamma mia! la madonna! sono ricchi qua nel fitness sala! hai capito? hai capito? spara! mappate! raccogli, raccogli, raccogli! certo che raccolgo, non tu worry più! fermo, 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 qui, qui, qui tutti i vesti... nooo! hai chiuso! qui, qui... ci stavano un fantasmo? mi sai si... eh... vieni qui a darmi una mano a raccogli... guarda la monetina che sta sparendo qui! monetina, monetina... perchè questi qui non vengono? i tappetini qui dal fitness... eh, se magari si succia meglio... no eh... guardiamo cosa c'è dentro... eh, guarda che muscole! eh, chuop! yeah, yeah, pittorali! eh, eh... è soltanto antipatico, proprio un'antipatia! e da, eccolo lì, il violetto! bravo, ciucciolo! finiscilo te! merito alla morte! mi tocca a fare tutto a me! mi tocca a fare tutto a me! l'abbiamo trovato? oh, oh eh! e, 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 e gioisci pure te! esatto! e prende la chiave pure lui! esatto! eh, quindi andiamo... aspetta, proviamo ad andare a vedere qua! ah, hai lasciato lì la chiave! non è che scappa! è sicuro? certo! vedi che è ancora di là? allora, vediamo qua se magari... perché vorrei vedere se questa porta è aperta! perché qui c'è la freccia? perché qui c'è la freccia? orco canna? ah no, è chiusa! visto che è chiusa? perché qui c'è la freccia che indica giù? perché vuol dire che c'è qualcosa! esatto! gommi luigi! ciuccia! e se lo domanda pure! esatto! puoi aprire anche te cosa? eh certo! basta, che ne so io! ma che ne so? non sono mai stato un assistente io eh! non posso aprire le porte? eh, posso aprirle io! permesso! eh, hello? eccola qua la chiave! no, capisco questo, no? finisce fuori! continua a farlo! capito, continua a farlo! fallo anche tu! senti, senti! mi stavo andando a cavallo nato! dove andremo mai? nei spogliatoi nei spogliatoi ma quindi ci sono prima i spogliatoi della... dipende dove sei andato barbone? eccolo lì! ah! mangia le banane! il cibo preferito di gommi luigi! esatto! ahah! sono anche scivolato! eh certo, scusa! secondo te cosa fa la buccia? ah, è vero! bisogna guardare un po'! i nanetti! giucci i nanetti! maledetto! che pensi tu a questo? buono! oh! cos'è il fatto? vai! giucci giucci giucci! sicuramente sei nascosto in un altro armadietto! certo! badabam! facciamo questi facciamo questi facciamo questi no! ma sono tornati! ah no! mi butti giù quell'armadietto la please! adesso adesso! però vedo che non ci sono dentro tanti soldi negli armadietti eh! erano tutti nascosti! prendi maglietta! prendi maglietta! prendi maglietta! prendi maglietta! vedi 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 che hai lasciato giù i soldi! la sopra nel armadio ci sono altri money! questa non sembrerebbe! no aspetta! secondo me ci sarà un armadetto fantasma! esatto! ah infatti! hai visto no? no! forse anche per terra! guarda che indice! vedi che si! ah sotto sotto! oltre sarà tipo se sposto questo visto? tac! mamma mia! se vuole andare subito sotto in quel punto lì! non ci sono problemi! prendi maglietta! prendi maglietta! dove era? era lì dentro! ah non ci avevo mica fatto caso! come lui si! vai dentro nella grata! adesso vai tutto a terra! adesso devo pulire un po'! io gioco... ho gioco... calcio! do brazil! ma che c'è? cool! quindi quelli che giocano a baseball ah il baseball i guantoni di baseball certo vede un po' difficile giocare a baseball qua dentro però che cosa ci sono scu... ah c'è! ah sono venuti! grandissimo! sono venuti qua di fuori! ammazza quanti! ma che stanno arrivando! si! spinzimeli di qua! uh! vai! spingemeli ancora! aspetta! va da destra a sinistra così me li spingi fuori! buono! buono! anche i cuoricini! mi sembra comodo! ne ho zucciati due fino adesso! via! che cazzo ho preso? un topo! lancialo! aiuto! aiuto! eh c'è un bug! aiuto! eh ok! spaghetto! quali bug? non ne ho mai visti io in quella! ah! eccolo qua! no no! viene qua a sinistra! ah! maledetto! hai tornato tu! vai su! vai su! è qui dentro! veda veda! vai! hai scappato fuori! arrivo! presa! mamma mia! sto guandone! fa fastidio proprio! vabbè! sti cacchi questi qua non mi servono! no! adesso li prendi! vabbè! vai là dentro! nel coso! si si! ho visto! qui qui qui! bravissimo! dove uscirà? ah! buono! non male! non male! adesso devo andare avanti! praticamente tu non puoi uscire! no! aspetta! vediamo! eh no! altrimenti non c'è nessun posto! tac! mamma mia! guarda come pompano i muscoli! no! stanno facendo... aiuto! stanno pompando i muscoli col ringo! no! devi tirargli cosa? tirargli via i guantoni? e che cacchio devo fare? ah! ho capito! devo fargli rompere la pettanghe bot! aspetta! vieni qua! secondo me dovremmo fare... qui 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 qui! magari devo... dobbiamo fargli rompere... aia! si ma non suota questa! oh! stai tanto calmino! ne... ahahahah! e vai! adesso si! ciucci! doppio ciucci a me andos! casso! ca... nooo! il cuoricenos! cacchio! 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 capito! 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 fatto! round 2! le chiappe! maledetto! dobbiamo essere qua in mezzo! e ullele! aia! venga qua in mezzo! ah! ma io sono quello la adesso! io guardavo te! eh! sono io con mi luigi! appunto! tiè! vialo! mamma mia! schifoso! no! non mi scappi stavolta! e te lo tiro addosso! ah! sei nascosto sotto il birbantello! no? come facciamo dopo a liberare lui? eh! non ti preoccupare! oh! vai! vai con mi luigi! ciucci! lo pio io! uno fatto! adesso ci prendiamo il guantone! se no anche così! eh! c'è il vetro lì quindi eh! intanto l'ho visto lo stesso! ah ah! vieni qua! bello fustacchione! hai finito! ah! come facciamo comunque davvero? si è che non sai da rompere! si appa! dammi le tue folte chiappe! uff! lasciamo venire avanti? te! tuccia tuccia tuccia! bravissimo! è giunto il momento di venire! rischietta! mi tocca fare tuttomia! oh! tuttomia tuttomia scusa! cosa ti ho chiamato qui a fare? fermo! all'acqua! la maledetta acqua! spacchiamo da sopra! ah! ah! beh! il vetro! il vetro! il vetro! lo so! questo no! sul... sul sacco! sul sacco! secondo me! guarda lì! sul sacco! sul sacco! vai vai vai! eh 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 eh! eh 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 eh! eh 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 eh! dopo non so se esattamente mi sblocca qualcosa adesso perchè sto vedendo che... queste cose non me le tuccia! perfetto! un'altra cosa buggata come quella dell'altra volta! uh! ci sei riuscito! eh! ma vedo che non si vede! ah! perchè dovevano salire qua sopra! mannaggia! vuole pompare lei i muscoli! vado io! aspetta mi è uscito x! eh! ho visto anch'io! allontanati! ah! la va 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 va! è buio! uh! sucia! buono che l'ho tirato addosso! bellissimo! mania che ha accoppiata! aspirazione più soldoni! do cazzo vai! sucio io! buono! sei pronto? direi tutti tutti che volano in bocca tutti i soldi! tutti i soldi dei 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 che si fanno questi! esatto! della palestra! ma quanti soldi si ha? na na na! ah! ha pesa questa! guarda che fusto che è questo! sali su anche tu! eh! purtroppo no! purtroppo no! ma cambierà qualcosa? se c'è! ma possiamo anche andare in questa! ah! bravo! forse abbiamo trovato una nuova gemma! aspetta un attimo! vix! oh! adesso c'è una perla! sbada bam! e niente! vuoi unire perle! qua ci sono dei pesi! magari possiamo abbranellare i pesi! assolutamente no! ma possiamo andare! in questa nuova zona! hai fatto su questo? si si! fatto tutto! fatto tutto! non c'è più niente! ma non c'è più attido!